che ci segue sempre un applauso al baffo, grande baffo questa sera però alla chitarra abbiamo Alberto Sonzogni che cos'è la chitarra? non lo so neanche io però mi ha letto così questo è una cosa, è un messaggio e una parte inizia in una maniera poi guarda tutt'altra e poi ritorna a celebrare l'amore perché l'amore è universale, perché l'amore ci piace tanto perché l'amore è qui a San Martini, strada e nello statuto del comune le mani che guarda! poi piamosi come il concerto di metallica nella penombra a San Martini! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti